Credi davvero che una connessione in fibra possa costare 15 euro al mese? Se ci credi questo sport non è per te. Se invece credi che ci sia bisogno di offerte di qualità ad un giusto prezzo che non cambi nel tempo, sei nel posto giusto. Conti LC prezzi a partire da 23 euro e 90 al mese, banda garantita compresa. Chiamaci al numero verde 800 13 28 24. Abbiamo ricevuto un premio molto importante, ci siamo classificati primi nel Lazio e secondi in Italia per la vendita della fibra ottica. Ancora un importante riconoscimento per l'azienda formiana TLC Telecomunicazioni, attiva da anni nel settore della telefonia e che opera con successo sull'intero territorio nazionale, fidelizzando nel corso degli anni un gran numero di clienti del comparto consumer ma anche grandi aziende presenti su tutto il territorio italiano. Risultati raggiunti grazie ad un costante lavoro volto a risolvere e soddisfare le numerose esigenze della clientela con la capacità di trovare giuste soluzioni tecniche nelle più disparate condizioni. TLC Telecomunicazioni risulta essere la prima azienda nel Lazio e la seconda in Italia per commercializzazione di servizi evoluti in fibra ottica. Abbiamo ritirato questo premio nell'ambito di un evento del gruppo Irideos direttamente dalle mani del direttore vendite del gruppo. Un'esperienza meravigliosa, un premio veramente importante che riconosce sia il nostro impegno sia la nostra dedizione nei confronti soprattutto della clientela business al quale forniamo fibre ottiche di qualsiasi taglio e di qualsiasi misura. La nostra clientela va dal micro business, quindi fibre ottiche con taglio piccolo diciamo così, fino a fibre ottiche dedicate tagliate per grandi clienti. In tutto questo non tralasciamo il mercato consumer, quindi il mercato dei privati che comunque oggi ha una grande sete e una grande esigenza di connettività. Al Museo Ferruccio Lamborghini di Bologna il direttore nazionale vendite del gruppo Irideos ha consegnato il prestigioso riconoscimento direttamente nelle mani di Giuseppe Delprete e Marco Bove rispettivamente amministratore unico e direttore commerciale della TLC Telecomunicazioni. In un mercato in continua evoluzione come quello delle telecomunicazioni, perché è importante un riconoscimento come questo per la TLC? Allora per noi il riconoscimento più importante è quello che ci danno tutti i giorni i nostri clienti, dal piccolo privato alla grande impresa. È ovvio che ricevere un premio così importante, essere primi nel Lazio e secondi in Italia tra una miriade di compagnie telefoniche, altre compagnie telefoniche, clienti del gruppo Irideos è un grande onore ed è anche una sicurezza per i nostri clienti, perché rende l'idea della dimensione del nostro business. La nostra compagnia telefonica, ripeto, spazia dal piccolo cliente alla grande azienda, perché oggi anche il piccolo cliente ha elevate esigenze di connettività e la fibra ottica è diventata una cosa fondamentale tanto nelle abitazioni, quanto nei piccoli e medi uffici, quanto nelle grandi aziende.